elan alaska uno sci molto valido sia a basse velocità che a più alta velocità da molto aiuto a chi ci sta sciando sopra probabilmente anche per la struttura questo elan bridge technology con queste due fasce un po rialzate anche a più alte velocità veramente non perde stabilità e rimane sempre incollato al terreno lodevole ma scopito bello sci sia sul raggio corto sulla dinamicità del raggio corto e sia sulla conduzione in pista sulla neve d'ora bella bello sci molto agile molto intuitivo semplice sul ripido molto agile quando innesti curve sulla dinamica risponde bene non fa scherzi se tu sei centrale risponde molto bene e come accenni a curve da gigante in conduzione si appoggia molto bene alla neve e puoi tranquillamente star tranquillo a tira curve in velocità senza credenza da consigliare sicuramente allo sciatore principante allo sciatore esperto e su qualunque neve penso che possa adattarsi dato che oggi l'abbiamo provato in condizioni abbastanza difficili